Parla, parla, dica cosa, io sono Alfredo, mi piace la Spagna, sono a Villa Helios, perché mi sono messo le penne? Perché ti hai messo le penne? Perché ti hai messo le penne? Sono indiana, un primo piano, ecco primo piano di Alfredo, un bel sorriso Alfredo, ecco qua, questo video andrà su Youtube, e fa un sorriso a primo, ma fa un sorriso, sorriso, e che falla a chi dentro.